Palazzo Montecitorio Palazzo Montecitorio era designato da Gian Lorenzo Bernini nel 1653 per il Prince Niccolò Ludovisi e questa mosaica Costanza che era la mia amica del Papa Innocente X perché della scuola del grado Bernini ha designato una fasade convex nella decorazione dei piccoli sedi ha fatto uso di rocche falsa con la morte del Papa il lavoro è stopto è stato ristratato dal Papa Innocente XII e la costruzione era completata dal architetto Carlo Fontana con la unificazione dell'Italia nel 1861 e il trasferimento del capitolo a Roma nel 1870 Montecitorio era chiuso come sede della Camera dei Deputati durante l'anima 1900 il architetto Ernesto Basile ha aggiunto il so-called Transatlantico il salone lungo e impresso che si riempia la Camera di Debate e incenda grazie grazie Grazie.